Eccoci, non posso sa troppo tempo che poi mi devo tirar, però intanto... Allora... Perché sta facendo il video? Ma che reel! Sì, ma nato! Boh, vabbè, continuerò a non capire, nel colpito dei mesi di pura vacanza ricomincia la scuola, però. Allora, link. Boh, sapete a dove è uscita la cosa di PNSF, no, poi non riuscirò a capire. Allora, questo è proprio il link, ci si chiama una cazzata. Ok, perfetto. Questa è la storia. Vale, male. Senti, se l'audio va bene. Boh, non credo. Sto sparare i gambi, mi sto giocando a Resident Evil, almeno male. Dai, muoviti. Aspettiamo che arrivi. Quindi tre mesi di pura vacanza, Boh, vabbè, se cade sta cosa, io non lo so, è tipo un bilico, non so, grazie a quella grazia divina. Questo è tipo un cartone, ce lo scriviamo. Vola via. Quanto costava? Esattanto, eh. No, non posso. Devo prendere un'altra arma, per forza, devo buttare con la Gaborgham. Ah, è vero, devo aprire Discord. Che rincoglionito. Aprire Discord, dovrò vedere se effettivamente il mio bot funziona alla perfezione. Cioè, il mio canale è Sgolbot, sì, per vedere se funziona. Sì, è arrivata la notifica, effettivamente. Novità? Novi anni di Discord, non ci interessa. Grazie al vostro servizio, ma non ce l'ho chiesto. Novità. Quindi, cosa potrei effettivamente prendere? Ah, KN sicuramente era un faro, manco a pagare l'oro. Argus. Eh, no, sì, forse l'Argus sarebbe. Pagapanciata, però. Oh, vabbè. Pagapanciata avrei voluto prendere l'Ogus, però 5.000 comini faccio. Non posso. Perché ho preso la gara? Ma se la prendo e non la uso, ma la consuma lo stesso. Che palle. Vabbè. Facciamo, le voci disattivate. Ah, semplicemente non prendiamo. Parlano, bastardi, dovete parlare. Forse è così un po' troppo, eh. Mmm, sai che volo è un po' troppo alto così. T5, eh. Sottotitoli. No, ragazzi, non mi interessa. Mi sottotitoli. No, stava a 30. Stava a 30. Stava a 30. No, non vado più adesso, Argus, no? Dobbiamo spregarsi i soldi. Spregiamo i soldi. Spregiamo i soldi. Spregiamo i soldi. Sottitoli. Coglione. Quaglias, Gabriels. Buonasera. Buonasera Sì sono un gran coglione, lo so, molto gentile Poi coglione con la Ipsi, con la Ilunga o la Ipsi? E' più classe eh? Dai Dai ma che perca del cazzo Ancient messenger Non parlano questi stronzi Vabbè prima o poi diranno qualche cosa Poi ha preso il più, il peggiore, certo Dici? Dai dici quanti soldi hai fatto sto mese con Twitch Allora, pronto? Aspetta eh Guarda di che forma è fatta, di che forma è fatta la Gubblegum Quella in basso a destra E' rotonda no? Ok Arriva ci vedo secondo Anzi una scritta nella seconda... Nella seconda cifra del mio caricatore a questo momento Adesso non più Si la Gubblegum è rotonda Non quella dove c'è il coso... Con la viola in basso a destra è rotonda Eh lo saprò no? Cioè si vede... Si vede con una forma... RUMBOIDALE Una forma rotonda No, romboidale no Un po' come un buco no? Ah qua è chiuso giusto Adesso sta qua sotto, sta DUM DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU C'arriva? Dai, non c'è la pompa, ci arriverà mai da quella C'è la canna liscia, poi No, non c'arrivo Ora iniziamo a aprire un pc di merda che non mi sopporta un cazzo E il gato Se vuoi, puoi usare A parte che puoi usare la console, non è obbligato a riutilizzare il gato Certo, col pc è meglio, non lo metto in dubbio Però se vuoi usare il pc, solo per le streaming E giochi con la play o con quello che voglia Tutti i perk Utilizza l'elgato Costicchia un pochettino Posso Giochetti di carti di mano per snap Eh, vabbè Potresti iniziare così, oppure se c'è qualcosa da investire, usi l'elgato E' un po' così Almeno non sfondi manco troppo la console Anche se tanto avessi 5 Se c'hai l'avessi 5, non so Dovrebbe essere capace di fare tutto insieme Però è sempre più comodo con un pc Quindi se puoi Compra dire il gato Ah, ce l'avessi uno? Perfetto Beh, l'avessi uno pure Questa che c'è il gato, l'avessi uno pure Va bene Però devi sempre comprare il Dreader Niente, l'avessi 5 Mi hanno fatto il giro di Pulpo Non ci arriva, dai Niente C'è la pompa di merda Lo so che c'è l'avessi 5 Perciò ti ho detto per prima quello Vedi che non lo sappia Tu veramente credevi che io non sapevo Non sapevo Non sapevo Vabbè Beh, l'italiano sicuramente è una cosa che non so E tu che cazzo vuoi A me si è sfondato il monitor che ho a destra Ma C'è Non È più piccolo a livello di pollici Quindi vedo le cose minuscole C'è una ciotataria a scrivere il massimo 3 messaggi Ma ne vedo di più Merda Stocco option Però non è andata all'università Studia fisica Non è andata all'università Studia fisica Ma a parte che hai mai visto l'altro giorno Stavolta la cilina Dover visto openheimer No, no, no Mai visto l'altro giorno Mai visto Stavo qua C'è sì Mai visto l'altro giorno Stavo qua Quindi Sono andato a studiare fisica Nessuna parte Merda l'ho visto Una decina di volte Però non sono andato a studiare fisica Di certo per quello Oh 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 Adesso non ho detto che volete andare a studiare fisica Non è un po' fa Sì Non è un po' fa 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 Però poi ovviamente Dopo un po' di tempo Che mi ero messo a fare Matematica Rotta di Culsos Ero comunque troppo Lento Perché non avevo le basi Non avevo nulla Quindi Cambierò Ehi Sì 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 C'ha ragione adesso Ho detto giusto Però Eh Ma sarebbe caruccio da avercelo Però ce n'ho zero No dai Chiaro no Vabbè 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 lo stesso No la skin rossa Che brutta Fa un culo Vabbè da fa 100 kg col cecchina No per sbloccare liquidi di vino Non diciamo 100 kg col cecchina E Insomma Sì 200 Già Inizio Quello là Ahia Massa senza cam Oh Fa Puro l'infarto Oh Ce l'hai Ah è vero che c'ho 3 armi No Che palle Non prenderò mai più Pecca fuori Senza Vedo ti fa una pietra Ma guarda Io Quello che c'ho adesso Quella che ho utilizzato Per le video lezioni Durante la quarantena Che la manetta di giocare Sono a quei giochi del cazzo di carta Eh lo so Ma a parte che Sì Fala da play Stai a posto C'è almeno su Xbox La cosa più semplice da fa Penso che sulla play Sì è la stessa cosa Semplicemente attivi Decidi la qualità Ovviamente Tu sai della cina C'hai la fibra Decidi la qualità Metti 6.000 kilobit per secondo Di bitrate E' a posto Cioè Metti 1080p Spero si possa trasmettere pure a 60 Ma in periodo si può fare Solo la PS5 Metti 1080p 60 6.000 kilobit rate E' fatto Non devi fare nient'altro Metti avvia E sparte Com'è? C'hai la fibra Scusa La BD L'A Praticamente Quasi Quasi In centro Vapete la cina Deve essere quasi Tutta coperta C'è Letteralmente Sopra in montagna Mi sembra Campo soriano C'è la Quasi C'è la 1 gigabit E tu là Dove sei tu Non ce l'hai? Sì E no E' uno scandalo Che sopra una montagna C'è la Vibra Ah non è possibile Fai la verifica Fai la verifica Della copertura Perché non è possibile Che non ce l'hai Non stai in cielo All'interno Cioè stai praticamente Non stai in mezzo a nulla Come me Nel senso Vivi Nel senso In una città Quindi No la bomba Nucleare Non la prenderò mai Anzi Sai che ce l'ho Mettiamola Mettiamola E non posso Fai per Solo Sotto storta C'è un problema La schiena La prossima volta Non mi fai più a corpo Se no Ah io PC Boh C'ho tutto a 50 gradi Stanno belli freschi Stanno belli freschi Veramente Certo ci guarda Guarda che ne è poco Per le componenti Per cui ci sono Guardate se funziona Non si Sì ok Effettivamente la gamba Si stacca Quindi non si funziona Puff Che quickscope Gli ho fatto a questo Piccola come mappa Però adesso appena Si sale con il round Comincio a diventare Impossibile E lascio se diverto Veramente poco Ma da una parte Spero che stiro Anche se perdo Tutti sti perk Perché così Mi tolgo di mezzo Il mio kick Che veramente Fa cagare Quando c'è un po' di soldi Mi prendo PC Boh no Per ora Li devo conservare Solo con la patena Eh Ti conviene Sì Conviene Aspettare Conviene che aspetti Conviene che aspetti Ma tanto guarda Se dovevamo PC Bono Di sti periodi Non lo so Dipende Però magari può essere Che i prezzi Di alcune cose Si abbasseranno Quando te lo farò Io Da 1000 Pure andrebbero bene 1000 Poi se ci riesci a mettere 1000 e 5 Stai Abbastanza Messo bene Non poter giocare al massimo Se vuoi giocare al massimo Almeno 3000 euro Non sai manco Dov'andare Su Amazon Ti prendi pezzi E te lo assembri Se non te lo sei assemblare Te lo fai assemblare A qualcuno Non ti vorrei manco Di vita piatto Lo avrei assemblato Perché non so Quanto convenga Ma penso Non convenga Mai nella vita Ma proprio Mai nella vita Zero Io il mio Lo sono assemblato Due volte da solo Perché la prima volta Quando l'ho messo Nel sto case La seconda volta Quando ho dovuto Spostarlo Nell'altro case nuovo Ci sono riuscito Perché so come si fa Se sai come si fa A parte che io l'ho imparato Tramite un Tramite un Tramite un Tramite un youtube Un tutorial Guardi in quarto d'ora Di video Se qui passo passo Quello che devi fare Magari i pezzi Non sono gli stessi Però te spiega Anche in base Alle varianti Dei pezzi Che hai Come farlo Hai fatto Cioè Te impari Non è complicato Come sembra Se c'è il prime Sono ancora meglio Te arrivano tutti Avanti lo stesso giorno Se fai l'ordine insieme Se no Te arrivano magari Ho qualche giorno Di scarpo Alcuni Però Ah e non fa La stessa cazzata Che ho fatto io Non te prende Magari Pezzi Che costano di meno Solo perché In quel momento C'è quel prezzo Se tu ritieni Che quei pezzi Non badano bene Aspetta Perché ho fatto La cazzata Di aver voluto Tutto subito Quindi mi sono preso All'inizio Alcuni pezzi Che non erano proprio Il massimo Per quel periodo E la scheda di video Ce l'ho ancora tutt'ora E quella farà bene Senza DLSS Senza campo più DLSS DLSS Tanta roba Non me La tecnologia Fuori di testa C'è questa sensazione Che Quotarone e Ronex Non li vendono già fatti No che bene Non farlo Per favore Sì li vendono Quelli già fatti Ma vendono Quelli Da ufficio Da quelli Che c'hanno In scuole Cioè No Cioè Costeranno massimo 600 euro Quello che trovi Da Ronex Essendo che Sono preassemblati Loro ci mettono in mezzo Il prezzo Anche la manodopera Dell'assemblaggio Che Ti verrà costato Centinei di euro Quindi il prezzo del pc È letteralmente 100 euro In meno Di quello che leggi La maggior parte Delle volte Però No Di prendere Preassemblati Da siti Che fanno Questa apposta Di lavoro E di professione Che C'ha sicuramente Più senso Che Magari Prenderli Da negozi Tipo A cappa informatica Questi qua Vendono pc Già fa Già assemblati Però Sono buoni In teoria Cioè poi Devi trovare La combinazione Giusta Troppo pure Mi sembra In alcuni siti Comporre tu E dopo Te lo assemblano Loro E te lo mandano Te lo spediscono Se proprio Non lo hai assemblato Se proprio Lo hai assemblato Perché Dici Vabbè È una cosa An più Che Ne vogliono Farà Che Posserebbe Se il film Per esempio A me Al compleanno Mi hanno regalato Un case No Che È Sbroccato È Rotto Cioè È La versione Airflow Che ti fa Passare Un botto D'aria Cioè pezzi Che si raffreddano Alla perfezione Se io me lo fossi Fatto assemblare Da qualcun altro Al pc All'inizio Non sarei stato capace Di togliere tutto Dal pc Vecchio Dal case Vecchio E metterlo dentro Con il nuovo Invece Invece con Un'oretta e mezza Due In totale Sono riuscito A far tutto E mo C'è Il case Nuovo Che Vanamina Se posso Avvi Io almeno Ho un po' piegato Con un pugno Eh vabbè Spero Cosa che possono succedere Se ti serve Qualunque altra cosa Oltre il gioco Te lo potresti pure Prende portatile Ma se ti serve un pc Per lavorare o studiare Non prenderti un pc Da gaming Si rovina Dopo pochissimo tempo Perché per giocare Lo devi tenere attaccato Alla batteria Solo fisso Va bene A posto Perché per giocare Con lo portatile Lo devi tenere attaccato Alla batteria Dato che se non ce l'ha Attaccata la batteria Si consuma subito La batteria Una volta che arriva A un certo punto Attiva risparmio energetico Le prestazioni diminuiscono Giustamente Per consumare meno energia E quindi Mentre stai a giocare Magari Dici Ma che cazzo è successo Non ti conviene Se vuoi studiare Lavoratevi Il mech Steppo Ma che sfida Vuoi giocare Allora ti fai quello Fischio Dove giocare Ti fai quello Fischio Steppo Ti dice niente Nessuno Ti rompe Paglione nessuno Attacchi la corrente Rimane l'ha Attaccato Tutta la vita Ti fai quello Che puoi Ti dice niente Nessuno Allora che c'è Stà la cassa John Porrei non vorrei Aprire questa No si Devo aprire questa Per forza Allora che c'è La cassa John Fammi tagliare Stamme 1.520 Boh Vabbè Grazie Non ce l'ha bisogno Però Grazie No mi dai la Regan Per favore Grazie Il pensiero Ma no Scende qualcuno Ehi Ma almeno Buro ancora forte No Buono Leimaker Ma no No Fa chagare Questa arma Sottovalutata Ma va bene Il fatto che Sottovalutata Poi ci teniamo A prendere Le Regan Con Non con L'arma Del Prendiamo Allo Locus Dai Porca giuda Niente Il merino più brutto Di sempre Per E ci risiamo Va bene che è casuale Ma non così tanto Niente L'HVK Car Marcia L'HVK Madonna Boh Vabbè Niente È impossibile Ottenere La Regan Vabbè Rispetto Eh Rispetto Per un cazzo Se c'è solo giocavi Sove forza Di cosa Ok 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 Non è Dai Oddio Possibile Ottenere Quello che voglio No Non è Zampo 940 No Non l'accetto Ok 950 Prima Sto Conto Ah C'è pure La Thandargan È vero Vabbè Dai Ma E poi Dai L'Helkar 9 La 9 Peggiori Di sempre Questa è L'unica Mappa Mi sa Che ha Due armi Attaccate Così Tanto Ma La Candina Di Merda Merda Questa è Il 3 19 C'ho Ancora 3 Ehi Sono una bomba No ma Troppi Quei conti Tu Manucleare Eh Beh Stavo In Germania Si Rida Si Scare Salvia Man Boh mi pare quasi in sogno veramente non riuscivo a trovare Regan ancora Beh è una passata di cotto e di crude eh con questo fatto però Boh vabbè verrà anche una presa per il culo Guarda è giusto per No questo è un problema di tutto Dieci E' vero che c'è la radio Madonna sta cazzocina Mamma mia Cazzocina proprio 2008 2009 eh Proprio guardato ora Quando scopri che se spari alla radio esce la musica Madonna Regan Mark 2 subito proprio Mark 2 minchia manco la Mark 1 Ma vediamo la Thunder Gun No è la uscita mi ha dato Breach Cazzata 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 Vediamo indietro Non c'è adesso niente Beh è l'unica compagnia che ho aspetta fammi alzare il volume della musica Boom Eh è un po' troppo Vabbè Oh mettiamo tanto Questo dovrebbe sentire tutta la mappa Questa è una traccia che esiste veramente nell'album del The Sound Rock eh Questa è una traccia che è una traccia che è una traccia che è una traccia Vedete però questa arma che fa schifo Questa sua Ma che robba bissel Ma che làmé Ma che robbi Oh Dingo Oh Dingo Caruccio come ormai Sempre andato a genere Ah un remix del... Questa non fa danno Ah canta pure eh? No doveva finì mo' round doveva finì Mannaggia Dai metti il po' dai alza Sì Questa qual'era? Uh! Mettiamo altta meta ovunque le canzoni del zombie Tutta Ah ho capito qual'è questa Beee Fissio Ma non fa rumore st'arma è un po' paggata Oh ma non fa rumore Piccolo paghettino eh Io uscì da un... Puto io uscì da un attacare Prendi, 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 prendi Ahhhh Pugioni Oh no oh no Un po' aggressiva Si cali di frame rate Allora se vuoi capire Cioè perchè interferiscono le due cose capito? Secondo me la musica questa qua la dove uno mette come musica di... come audio di gioco Musica Beh audio di musica Boh Prendi anche prendere un'arma al muro solo per le munizioni Prendi anche un'arma al muro solo per le munizioni Ehi voi luridi nempi Ridatemi I miei ragnetti Ho fatto un... Ho fatto un sacco di cazzate mi sa Vabbè non è se tante volte riusciamo a... Aspetta no io volevo un sacco di punti Perchè c'è il per due Che fai? Non vuoi fare i punti col per due Scusami Fai scemo Nietto ho finito i ragnetti Aspetta fammi ripieno No non ce l'ho più Va bene Va bene Va bene Eh non è world atturo purtroppo Non c'è il lanciafiamme Senza lanciafiamme dove vai? Cioè dai Non ho pure il rumore di fine ondata Non mi ricordo troppe cose Non posso sentire il boom e così Allora e non penso di poter campare qua Perchè questa Cioè in realtà si dovrei rimanere qua No? La porta deve rimanere chiusa Però Non c'ho le munizioni Cioè non c'è fiamme Con le munizioni infinite Io vado tu Baga un po' con quello che c'ho Dai Fai un po' di fa' qualcosa Di decente Dove Olle Ah c'ho qualcosa che giustamente mi tocca Ha le stirano tutti Ma ne sono vale Va bene altro hit E finisce Parata di curo secondo me inutile eh Buon Act of Rantana non mi ha mai fatto un pazzi in realtà su altri giochi Cioè solo su World of Tore era bello Paccato che non c'ho World of Tore Cioè ce l'ho ma ce l'ho sull'Xbox Sarebbe che Ruccio avercelo qua Cioè Eh ancora per poco Se la Microsoft si smuove a metterli sul Game Pass No un'altra volta Vabbè ho fatto una sfida C'è sta Vedete come si mette il programmino E ti sciova Mette solo in pressione la pressione di No se è passiera Sarebbe che lui Se no potrei andare su Moon No sto su Moon Moon è bella Mamma mia A volte che morire Quanti ricordi sta canzone 218 L'ho dimenticato Esistesse questa canzone al menu Sempre tono al V è bassissimo Allora Mamma mia Tante robe Eccoci BG Buonasera Adesso Buonasera La cosetta Oddio non so se tenere la musica alta qua Effettivamente Boh Moon Potrebbe essere un attimo Vabbè I fulghi americani mai avranno i miei segreti PESPIT COVALA Non rivela Giusto Andavo rivela La tua identità Infimente Vieni da qua Siete già da qua la Luna? Sì Siete già da qua la Luna? Siete già da qua la Luna? Siete già da qua la Luna? Siete già da qua la Luna Sono Alexandra 0 Si figuri Si figuri Non succederà mai più Significa Si no Ma io devo ricominciare Perché io voglio il juggle C'è posso pure Non fa senza Che run sarebbe? Oh mio Una corda di zombie Deciuzo Non lo so Se te piace Una corda dei zombie Vieni a tua morte! Vieni al doktor! Questo è tutto... Dipshit, porto. Mi amico! Oh, è solo una base di moonbees, ok? C'è la terra! Molto interessante! Oh, è solo una base di moonbees, ok? Sì! Non facciamo caso! Oh, il suo giudizio è brillante! Ma cosa hai fatto? Dai, però, non c'ho la munizione. Vabbè, round 1... Aspetta, qua c'è Giovanni, però! Eh, Mr. Suzuki! Aspetta un attimo! Mr. Suzuki non sa che lo andiamo a fare ancora un attimo! Perfetto! Cioè, hanno rotto le barriere, quindi vuol dire che sono usciti, ma dove stanno? Ah, buongiorno! Loro chiaramente non possono... Possono aver riso, già morto! E' troppo rapido per loro! Eh, me ne serve uno solo! Ma dove stanno? Ma perchè li fanno giù? Cioè, perchè li fa spawnar giù? Guardali, ma che cazzo stanno qua? Che galleggiano nell'aria! Eh, loro paio è così erratica! Eh, loro! No, però sta Mr. Suzuki! Ho fatto prendere il farlo! Posso passare? Posso passare? Double tappo! La merda proprio! Cioè, da darmelo adesso! Ma manco troppo, però! Da darmelo adesso? Forse un pochettino sì! Ma guarda, io con il double tappo a questo punto prenderei... Sì, mi convene prendere questo! C'è la skin rossa, c'ho questa! C'ho la skin rossa, c'ho questa! E forse è pure meglio, boh! Divente dall'aria! Questa la mai la lascerò gialla, non la toccherò mai più! Ah, c'è... Forse è che ho toccato il modello... Stanno qua sopra, perchè li fa spawnar sopra? C'è anche Mr. Suzuki! Non c'è più Mr. Suzuki! Un secondino! Ok! Attiva il naso! Può morire! E tu che ci fai qua? Oh, bomba nucleare! Sì! Sì! Vado a vedere se è una delle... Se è quella o quell'altra che si attivano! Che palle, però la gravità mi ha rotti coglioni! Cioè, va bene! Rispetto per la fisica! Però non voglio tra galleggiare nell'aria ogni due secondi! Aspetta, però non c'era il coglione qua! Sì! Io non mi ricordo che musichetta attiva... Cioè, ci sta su sta mappa! Però mettiamo la corrente! Oh, guarda qui! Io non mi ricordo gli easter egg di sta mappa! Io non mi ricordo gli easter egg di sta mappa! Non me lo ricordo minimamente! I double points! Ah, vero! Ma si attiva la gravità artificiale... Quindi posso galleggiare di meno... Cioè, posso avere la gravità della terra se tolgo l'elmetto... Apri la porta, magari se non soffoco... Ok... Qua dentro non c'è gravità... Cioè, c'è gravità... Quindi... Però se sfondo le finestre... Sai che... Soffoco lo stesso... Oh, attenzione! Cos'è questo? Questo è... No... Questi esseri... Questo è cosa? Magari se fossero un'altra definizione... Lasci i vostri... Vabbè, non ci interessa... Penso sia la cosa come cazzo si chiama... Si andava planetaria, come cazzo è... Da gravitazionale... Che si fa col pianeta... Che cazzo ne so niente... Per rimane in orbita là... E qua hanno cose... Di tu però ne so... Oh, e tu che cazzo ci fai... Questi esseri... Questi gollum di merda... Che pare che sub 1 si deve sportare con lui... Eh, infatti... Costa mille la porta... Costa mille la porta, vero? Cioè... Dov'è l'hugger? Dov'è l'hugger? Dov'è l'hugger? Dov'è l'hugger? Dov'è l'hugger? Non è qui... Dov'è pinchia... E' l'hugger... Sta sicuramente su... Perchè sto su... Ah, vabbè che era gollum... Vediamo se torniamo sulla terra... Ci rimango un po'... A fa' danni... Perchè... Ho bisogno di... Però c'ho pochi colpi... Però c'ho pochi colpi... Attenzione... No... Sento... Questi esseri... Immondi... Vabbè ancora li conoscerlo... Senza casco soffrono qua, vero? Si... Lo so... Adesso lo metto... Non ti preoccupare... Mamma mia... Mi sento più cazzo però... Mi sento più cazzo però... Mi sento totturato... Poi... Voglio vedere la nasa a costruire una base così sopra la luna... Ma verrà da ridere quanto tempo ci metteranno... Lo faranno... Lo faranno... Lo faranno... Lo faranno... Mi saranno solo 2.500... Per il Jug... E dopo me ne vado... Fa' un culo della terra... Un'altra cosa... Fammi togliere il Mentos... Eccoci qua... Potrebbe uscire per forza il Jug... Perchè... E' uscito prima la stamina... E' la star piccola... Ma ho dato la stamina... Che culo... Ma ho dato la stamina... Tu hai bisogno di un Juggernaut... Ma se corre un po' meglio... Eh però pure loro... Correrò un po' meglio... A parte del fatto che ho finito i golpi... Quindi me ne devo andare subito... A fanculo... Però prima... No... Non c'ho io credo... Non c'ho io credo... Ho fatto la cazzata... Ho fatto la cazzata... Ah... Beh... Certo... Cioè... Gli so saltato addosso... Perchè... Dai un po' se riesco a tornare... Meno male che c'ho ancora... Fontana Speciale attiva... Meno male che c'ho ancora... Fontana Speciale attiva... Posso ancora... Salvare il mio cervello... Ok... Perfetto... Iiii... Dammi... Dammi il Juggernaut... Bass... Corco Giuda... Eh... Quale giotto è vero... C'è la corrente attivata qua... Un casino... C'è la munizione... 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 Servono le munizioni... Fatemi due punti dai... Ah... Due cinquanta preci... Tutto un po' saggio l'incogioneta... C'è sta... Emo non c'ho più... No vabbè... Cioè... Ho preso le munizioni... Ho droppato il massimo... Ma no no no... Non volare... Stai capo... Cazzo voli... Cog***o... Nel gioco... Nel gioco... Nel gioco... Nel gioco... Qua no... Qua non c'è... Crevito... Ci mancherebbe pure... Ho bisogno di trovare l'hacker... Perchè se... Se le trivelle... Se le trivelle trivellano... Non so... Cazzo... Perchè sfondano tutto... Vabbè le trivelle che sono qua... Lavoro loro... Potrò rascinarmi su ultimamente i muri... Finché non trovo... Punto di spawn adesso... Cazzo di cose... Niente... Qua non c'è... Adesso per là nemmeno ci sta... La deve sta qua... Ah... 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 Me ne è morto... La vai rascendo in vita... Sti cazzo... Eh allora deve sta qua... Non lo so... Qua no... Qua non può essere... Tanto meno... Dove cazzo stai... Levati... Se mi ammazzava qualcosa... E' un pazzio eh... Cioè... Cominciamo a attirare i cazzotti ovunque... Dove cazzo stai... No... Ma vi pare la finestra... Cazzo che vi pare la finestra... Dove minchia sta qualcosa... Mi trasceno su tutti i muri eh... Cioè... Io me li faccio su tutti i muri... Finché non esce la premie F... Per prendere... Niente... Tavolo centrale non c'è... No... Mi serve l'hacker... Dov'è? Nooo... Nooo... Dove cazzo... Nooo... Merda... Ma ancora nessuno deve andarci... Via... Allora... Però no... Non credo mi andrà bene... Quindi... Posso tentare tutto... A buttare proprio tutto in all-in... Nella fortuna... E prendere... Il double tap... Sperando che mi dia un perk decente... Insieme al double tap... Oppure farmi da culo e... Comprare armi, munizioni e cose... Perché non posso andare per la seconda volta sulla terra... Perché... Qualcuno... Io non sono ancora andato nel giardino... Però sono sicuro che il... No... Deve sta per forza là... Il... Ah no... Può sta pure dall'altro lato... Mi sa eh... Mi sa che lo stronzo può anche stare dall'altro lato... Lager di merda... Mi ricordi... La fine dei colpi so cazzo... La fine dei colpi so colpi... Mi sa che l'essere vile può anche stare... Il dead shot dai kiri... Che perche del cazzo... Non serve letteralmente a nulla... Cazzo sta di quest'altro... Oddio... Paggiorate così non poteva andare... Stiamo così ah... No eh... Non c'ho parole veramente... So due volte che... Prendo le munizioni dal muro... E mi trovo le... Probabilmente è abbastanza tiltato eh... Probabilmente è abbastanza tiltato eh... Perchè non c'ho lager... E' un pazzesco... Semplici da dirlo... Ma mi conviene cavolo dall'altro lato... Eh... Probabilmente c'ho i soldi da lì dall'altro lato... Non c'ho manco il jugger... Che a me parà il culo... Eh... Extavator... Eh... Extavator... Sta arrivare alla scavatrice... Eh... Non c'ho... Non c'ho il coso... L'ho detto adesso... L'ho detto... Un data set... Arriva alla scavatrice... Lo sapevo... Ma... Non ci posso fare un cazzo... Perchè non c'ho lager... Per togliere dei coglioni... Non ci posso fare nulla... Letteralmente nulla... Scusa un secondo eh... Scusa un secondo... Adesso continuiamo su Google... Ah che era spawn... Moon... Eh per forza quella... Quella di quelle tre stanze è là... Spawn... Moon è rimasto così... So sei spawn su... So sei spawn... C'è una sei... C'è una... Dopo l'entrata... Bucquets... Bucquets... Trigger box... Ledge... Shelf... Canister... Quelli sui spawn... Se non sta la... Ma il fatto è che ci deve sta... Perchè se non ci sta... Vuol dire... Che non... Non... Non è possibile... Se Bucquets... Si deve sta per forza... Non può essersi buggato... C'è non può essersi buggato... Su una cosa così... Troppo fondamentale... Cioè... Vincazzo... Veramente... Allora... Bookshelf... On the entrance... E non c'è... Perchè dove sta qua... Mi ricordo che c'era... Non c'è... Dove sta pure qua... Però non c'è... Qua... Lo stanno a seguiti gialli... Ci dovrebbe stato lo spawn... Della merda... Bastarda... Infame... Ma non c'è... Qui nemmeno... Ok... Excavator... Eh... Si lo so che sta arrivando... Le scavatrici... Le scavatrici... La scavatrici... Non ti preoccupare... Ehm... Farò il possibile... Per evitare che ti si inculi... La scavatrici... Allora... Grazie a dire una cosa buona... No... Niente... Niente... Oh... Sti... No, no, no... Se mi ammazzano sti cosi... Impazzisco eh... Ma veramente stanno a fa... Sedere da sport... Ma dai... Ma non rompete il cazzo... Oh... No... Qua non c'è... Né tanto o meno qua... Non mi pare di vederlo... Non mi pare nemmeno... Ci sia un'interazione per raccoglierlo... Quindi andiamo al terzo piano... Ci sono tre piani, no? Ok... Andiamo al terzo piano... Terzo piano... Si è veramente proibito... Tutti coloro che lo desiderano... Farò una fine... Molto dolorosa... Ok... Lo so che causare la decompressione... Della zona... E quindi... Non c'erò più la possibilità di fare un cazzo... Ma non c'è... Ah, ecco... I will pawn them all... Andiamo... Guarda la vaga... Andiamo a... Cusciuta... Tutto cazzo stava nel... Nel vetro... Do sta andando a scavare... Dove devo sempre andare la... No, sto un buon risoffocato... Perché qui non c'è l'aria... No, qui non c'è l'aria... Doi... Eh, qui l'aria c'è... Invece meno male... Eh, se le scalatrici mi sfondano... Mi sfondano... La possibilità di avere c'è l'aria dentro le zone... Meno male che non l'ho preso... Ne avrò finiti i corpi... Questa cazzo... Qual è? Qual è? Qual è? No... Questa... Gordo... Decomprimi stu cazzo... No... Mi prende là che... Cuda in mano... Qual di più... Allora, io... Ho bisogno di prendere un altro perk... Che dovrebbe sta qua... Dovrebbe sta la stamina... Ok, qui posso ancora respirare per fortuna... Però devo aprire qua per la stamina... E quindi non ho i soldi... Per prendere la stamina... Devo uscire al volo qualcuno... Con l'hacker... Io posso anche togliere le perk... Ho bisogno di prendere... Ho bisogno di prendere... Ehm... Sprecato... Perché c'erano zombie solo... Goh lo mando dal shark... Goh lo mando dal shark... Ok, si per chi mi tengo... Ah, aspetta... La canzoncina è vera... Io non ho mai sentito la canzone di questa... Cioè, non me la ricordo, non ho mai sentito, dai un po' Piuttosto... Ma sono quasi tutte così Detto pure prima Non teniamo il volume troppo alto, potrebbe dare facile a chiudere Ma sai che forse ne possono pure mezzo copiretà, però non credo nell'azione del gioco A me sinceramente non interessa L'azione anti-habite tranquillamente all'interno del gioco Non dà colpa a chi ha deciso di poterlo fare Ok Aha Nooo, non esagerato Comunque la migliore rimane quella del Gino del Toro No, io non ci muoro un'altra volta per colpa di questi stronzi, eh Non ci muoro un'altra volta, virgola, per colpa di questi stronzi Trovazzuno Trovazzuno Ho sempre lo stesso gruppo poi Uh, la cassa è qui Mamma mia che roba Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, l'ho sentita l'ultima volta a 10 anni fa, urbabilmente. Cazzo, se mi fosse aiutata la Rekan adesso. Vabbè, ora vediamo che merce. Oh, che merda, no? Che cazzo che lo prendo, quell'essere? Ancora? Eh, io ho anche una troppa. Boh, vabbè. Beh, ma mi vuoi non lanciarazzi? No. Dai però Secondo i nostri Secondo i nostri Secondo i nostri Un enorme imprevisto Ho fatto millikili con quest'arma Quindi dovrei tirarmi tipo al volo adesso Vabbè la cosa tanto Già sapevo che devo fare qualcosa però così presto Non penso adesso subito però vabbè Pensavo ad averci un po' più di tempo Invece non ce l'avevo Vabbè E... Ehi sape grazie per me Te riso E niente Grazie anche se è passata Adesso vedrò Di tornare Domani Penso che domani O dopo domani Non lo so Quando mi capiterà Domani è giudì Vedo se esca fa la run Solo se sentivo Alla professionista Non penso Dai Apriamo sta Pacchetta di liquidi Divinium Dai Che schifo Non hai speso tanto Vabbè Addio